Musica Enesimo incidente mortale sulla strada statale 106 nei pressi del Bibio Rogù di San Leonardo una Fiat Panda con alla guida un giovane di San Pantaleone improvvisamente si è visto attraversare la strada da due persone di nazionalità indiana nulla ha potuto fare per evitarle l'impatto è stato violento per i due indiani purtroppo non c'è stato niente da fare sul posto sono intervenuti la polizia di Gondofuri i carabinieri di merito portosalvo i vigili del fuoco l'ambulanza del pronto soccorso l'ANAS Musica